Con una sediolina, un tavolino, mamma, con una colazione che era un amore, che non me l'ha venuto comprare perché costava molto, costava caro, smettila, ho tutto aperto, tu hai 34, ti vai a zoomare fino a... E' troppo per te! Speriamo che vada! Fabi, ti sta riprendendo! 18! Quato! Qui si fa, non mi sono? Quattro! ecco l'anziano